Ma alla fine tu la hai... Ah prendi la section gamma tua va? Facciamo un video quindi... Si si Fammi cercare qua Oh illumina qua, illumina qua Non la trovo per adesso Però prendi la section gamma tu Si si Eccola qua dai andiamo Ma non la banana, che c'entra la banana? Ah action gamma è questa Ah cioè? Eh l'ho nominata così, è il suo nome Ah l'hai chiamata action gamma la banana? Si si, ne vuoi un pezzo? No Di action gamma la No grazie Ecco e come potete vedere In queste macchinette Non ci sono gli iPhone E quindi è una cosa che devo vincere qua Si è fatto stare Quella ancora là che mangia banane Oh vieni qua Anche se l'audio farà schifo ma comunque Ah si l'hai preso alla fine Si l'ho trovata Non vuoi mangiare la banana? Ho mangiato la action camera Questa è la banana Ma tu stai male A presto Perché non la stai male 500 euro di E' già un poня E' sabbi Il GoPro che mi stendono Ho fatto 150 Pure che posso fare i video con i testi Basta collegarla a un drone E' una mia costa da 129 Senza pretesa No, 140 poste Perché questa c'è la custodia Oh io La schagogica ci hanno detto che non possiamo registrare qua dentro oh non possiamo registrare, perché non poter registrare in un posto? registriamo i piedi e siamo tranquilli no adesso noi usciamo da qua e allora finalmente siamo usciti dal posto in cui non potevamo registrare ma abbiamo continuato a registrare quindi non capisco perché ci hanno sarmato e poi non puoi registrare sì perché stavo facendo un video della gopro perché ovviamente essendo concorrenta ah sì, sto dentro la concorrenta, la mi action game cinese contro la gopro non è che posso mettersi di concorrento alla fine io devo mangiare un attimo una cosa, devo mangiare stiamo entrando qui in questo parcheggio, appunto H24 praticamente e basta da qui ti fai, da qui ti fai sì ma ci sono le scala per prendere i vietori se viene una macchina facendo drift e ci prende davanti non può venire mai una macchina fa ah non è completa ancora ah no, è pieno io voglio registrare pieno, un parcheggio vuoto ma roba, è tipo quello degli gta no, c'è mai sicuro venire qua non sa che no, c'è sempre la pratica che siamo fai legalmente allora andiamo via andiamo va non lo so, ve lo dobbiamo scendere ah, l'accio giustito questi due euro uguale io sono due euro non lo so, non lo so non lo so, non lo so non lo so, non lo so non lo so non lo so beh, allora perché te l'hanno regalato poi ci sono messo una frase alla barbaceca abbiamo bisogno per questo video una frase alla barbaceca? sì sì tipo non mollare mai, sempre bisogna quindi la frase dell'altra volta qual'era? vediamo se la ricordi chi la fa l'aspetta quella che abbiamo usato nel treno a Trapani ah quella frase quella frase quella frase si sa, si sa ah ok vediamo se stai a ricordi perché deve tornare in questo video allora la frase è l'opaccio è troppo ruso la minchia è tappuccio l'opaccio è troppo bello la minchia fa bui bello bravo a ma che tu fai un po' niente, cosa hai a casa? allora tu ti chiedi? 25 dicembre 1937 Non parlare che è così distante l'audio Vabbè, è Natale comunque Io ora dico che il 2018 sarà l'anno in cui somo la ragione di Orchelli Che diventerà famoso Questo è questo Inquadriamo a mio Orchelli e canta Magica Bula Grazie a tutti